Le senti tutte le persone intorno a me? Beh, stanno correndo al lavoro e non prestano attenzione a nulla. Certe volte siamo così presi dalla nostra vita quotidiana che ci dimentichiamo di ritagliare un po' di tempo per apprezzare le bellezze della vita. È come se fossimo degli zombie. Dai, guarda su e tira fuori la testa dal cellulare. Saluta qualcuno che non conosci e magari abbraccia qualcuno che sembra triste. Salva qualcuno. Salva qualcuno. Dovresti vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo perché purtroppo è questa la realtà. Quello che le persone non sanno di me è che sono caduto in depressione. Non ne ho mai parlato con nessuno. Mi sono dovuto conquistare la mia via d'uscita dalla depressione. La persona che mi teneva lontana dalla mia gioia ero io stesso. Ogni giorno è prezioso e come tale va trattato. Ogni giorno è prezioso e come tale va trattato. Il domani non è garantito. Quindi vivi l'oggi. Spero che tu condivida questo messaggio per spargere amore in questi giorni di festa. E dopo aver ascoltato la mia voce fai sì che le tue esperienze passate non condizionino il tuo futuro. e che questo messaggio possa raggiungere chiunque ne abbia bisogno. Ora aspetta a te farlo arrivare ovunque. Buon Natale Dallo Zodi 105 Dallo Zodi 10